Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi parliamo di un mito da sfatare, ovvero che l'alluminio è freddo, fa entrare il freddo e è freddo al tatto. Chiariamo subito una cosa, non esistono materiali freddi e non esistono materiali caldi. Esistono materiali che possono essere riscaldati con una fonte di calore o raffreddati con una fonte refrigerante, ma da soli non possono né riscaldarsi né raffreddarsi. Per spiegarti meglio ti illustro quello che succede qui all'interno di questa stanza. Nel mio ufficio ci sono 20 gradi. Questo qui è un angolo di una finestra in alluminio e questo è un angolo di una finestra in legno. Legno alluminio, va bene, non ci interessa l'interno, quindi diciamo legno. Questi due materiali sono qui dentro da giorni, da settimane oserei dire, quindi hanno per forza la stessa temperatura che c'è dentro la stanza, ovvero 20 gradi. Perché quando io tocco questo alluminio qua lo sento leggermente freddo e il legno non lo avverto. Per un semplice motivo, perché io ho 36 gradi, noi tutti abbiamo 36 gradi quando stiamo bene, lui ha 20 gradi, quindi i miei 36 gradi vanno a trasferirsi nei venti dell'alluminio. L'alluminio è un materiale conduttore, quindi lui conduce sia il caldo che il freddo. Questo non succede con il legno perché il legno invece è un materiale isolante. Diciamo che non sarebbe corretto chiamarlo propriamente isolante, comunque un materiale più isolante rispetto all'alluminio. Cosa succede? Non è il freddo dal di fuori che viene dentro, è semplicemente il calore della mia mano che va a trasferirsi sull'alluminio interno, perché un seramento al giorno d'oggi per essere performante ha bisogno del taglio termico. Il taglio termico è questo materiale centrale che separa l'alluminio fuori da quello dentro. Quindi io non ho niente che vedere il mio trasferimento di calore che ho dall'interno con la parte esterna. Altro mito da sfatare, non è mai il freddo che entra in casa, non parliamo di inverno naturalmente, ma è sempre l'isolamento, quindi il serramento o il muro o il tetto, tutto quello che abbiamo nell'involto della casa, che mi fa fuori uscire il caldo. Quindi non è il freddo che entra, ma è il caldo che se ne va. Per questo è così che si misura il potere isolante. È quello che succede un po' ad esempio in un termos, quando ci metti dentro un tè caldo. Non è mai il freddo di fuori che gli entra dentro, ma è il calore del tè che piano piano viene disperso e va a perdere. Quindi quando io tocco l'alluminio e dico che è freddo, ho detto la fesseria. Ho solamente trasferito i miei 36 gradi sull'alluminio. Chiaramente a patto che stiamo parlando di un infisso come questo, un infisso come si deve, un infisso costruito e progettato bene e soprattutto un infisso posato a regola d'arte, perché la posa in opera è il 75% del risultato. Posso avere il migliore infisso posato male e tutto quello che ho detto in questo video praticamente non vale. Ultima cosa importante, questo vale per un infisso in alluminio a taglio termico, perché un infisso in alluminio puro senza taglio termico lui per forza mi trasferirà sia il calore che ho interno a casa sull'esterno, sia il freddo che è di fuori all'interno. È una cosa che non si può fare a giorno d'oggi, un infisso in alluminio freddo, ma anche un infisso in alluminio a taglio termico di quelli come sto iniziando a vedere ultimamente che hanno delle prestazioni molto molto deboli, si chiamano taglio termico solo perché è giusto chiamarli così, ma di taglio termico ne hanno davvero poco e in quel caso si potrebbero avere diversi problemi, soprattutto di sensazione del freddo. In realtà con questo tipo di taglio termico qua, isolando davvero tanto bene e anche la verizzatura stessa, soprattutto quelle opache, perché anche l'occhio, ricordiamoci qua la sua parte, il tatto spesso viene coniugato anche dall'aspetto visivo. Cosa succede? Se io tocco qualcosa ad occhi chiusi ho una sensazione, se tocco qualcosa ad occhi aperti ne ho un'altra. Quindi questo tipo di verizzatura di trattamento me lo fa sentire più caldo perché una verizzatura così opaca richiama molto un infisso in legno. Il cervello collega, va per associazioni e ha una sensazione di freddo che onestamente qui si avverte veramente poco. Anche per oggi abbiamo finito, continuo a seguire i nostri video, ciao e al prossimo video!